Da una parte c'è una squadra dall'identità sempre più precisa, in grado di prendere per mano le partite anche su campi complicati e contro avversari allestiti a suon di milioni di euro come la Cremonese. Dall'altra c'è l'amarezza per una sliding door che non si è aperta al momento giusto a causa di quella che sembra a tutti gli effetti una svista arbitrale, quella del signor Manganiello di Pinerolo in occasione del contatto tra Ceccherini e Favilli in area grigio-rossa al minuto 87 sul punteggio di 1-1. È un Bari con più certezze, con i nervi a fior di pelle quello che è rientrato dalla trasferta dello Ziri. In tasca c'è il secondo pareggio di fila, il sesto risultato utile consecutivo. Nella valigia dei rimpianti c'è un altro episodio in area nel finale. Otto giorni prima contro il Cosenza la mano di Colisaco era costata il penalty trasformato dal calabrese Fumagalli. Domenica a Cremona la mancata assegnazione del calcio di rigore reclamato da Favilli ha il sapore del torto subito, un episodio che Giampaolo Calvarese, ex arbitro internazionale con più di 500 partite arbitrate tra i pro in carriera, commenta così. Parlando di dinamiche arbitrali, il contatto di Cremonese-Bari, di Ceccherini su Favilli è abbastanza semplice da dirimere. Infatti è il classico caso in cui attaccante e difensore vogliono arrivare per primo sulla palla. Vi riesce Favilli che tocca la palla e il difensore della Cremonese non può far altro che toccare il piede d'appoggio di Favilli che va giù. Dal campo si può sbagliare, l'ho sbagliato io, hanno sbagliato tutti gli arbitri, un contatto sottovalutato anche perché la palla rimane lì, però abbastanza semplice al video da poter vedere e capire qual è l'impatto falloso su cui intervenire. La verità, come dice Longo, non capisce come non si è intervenuto il Vargariglio. La verità è che è un ragazzo giovane che appartiene al corpo di Varpro da poco tempo e quindi deve fare esperienza. Ci sta che magari abbia sottovalutato con superficialità, per carità, quel contatto sbagliando a non richiamare Gianluca Manganiello al VAR. Anche contro la Cremonese nei fatti il Bari è stato raggiunto dopo essere passato in vantaggio, un fattore che si era manifestato contro il Cosenza e contro il Modena alla seconda giornata nel K.O. per 2-1 del Braglia. Moreno Longo nel postpartita è andato oltre il risultato soffermandosi sulla personalità del gruppo. C'è dal campo al di là del rimpianto ma con la consapevolezza di mettere dentro una mentalità dove deve giocarsela con tutti, deve avere la personalità e l'atteggiamento sempre per essere propositiva. Questo sicuramente è stato un passo avanti ancora in una trasferta difficile. È stato il Bari a concedere qualcosa in più ma è stata la Cremonese a inserire giocatori di una qualità pazzesca. Contenere il ritmo del primo tempo sarebbe stato difficile e quindi dovevamo per forza di cose a Cremona concedere anche una parte alla Cremonese perché sennò voleva dire venire a dominare 90 minuti qui a Cremona è anche solo il pensiero un po' presuntuoso però noi dobbiamo continuare a lavorare con questo tipo di mentalità, con questo tipo di coraggio. Elementi e spunti che accompagnano alla sosta del campionato di Serie B unitamente agli attestati di stima arrivati dai 1600 tifosi biancorossi presenti allo Zini. Maite e compagni sono in dodicesima posizione ma un solo punto dalla zona playoff. Ritorno in campo venerdì 18 ottobre alle 20.30 quando al San Nicola arriverà il Catanzaro dell'ex DS biancorosso Ciro Polito.